L'etimologia ci insegna sempre qualche cosa, gioco. La parola gioco viene dal latino iocus, che però ha un significato un po' diverso dall'italiano, perché il gioco è una burla, uno scherzo, una cosa da nulla. Se noi pensiamo al significato di gioco nella nostra lingua e nella nostra cultura, è allora altro che una cosa da nulla, è una cosa a volte molto in grande, il gioco del calcio, i giochi olimpici che coinvolgono intere nazioni o espressioni come giochi proibiti, che non sono una cosa da nulla, gioco d'azzardo. Ecco il gioco d'azzardo tra l'altro ci fa vedere il passaggio del gioco a una dimensione diversa, perché oggi gli economisti e anche i politologi si occupano di una teoria dei giochi, che è una teoria che sulla base del calcolo delle probabilità cerca di prevedere il rischio del futuro. Quindi la teoria dei giochi è quella che vuole spiegare le crisi economiche, le crisi tra le nazioni, le crisi della politica e cercare di dominarle. Quindi il gioco diventa una cosa seria. Per il resto basta pensare a un'espressione italiana come mettersi in gioco, non vuol dire scherzare, ma vuole dire rischiare se stessi in qualche impresa o in qualche scommessa importante.